200 indagati, 400 società coinvolte, 47 ordinanze di custodia cautelare di cui 34 eseguite in carcere e un giro di fatture per operazioni inesistenti dal valore di 1 miliardo e 300 milioni. In sintesi sono i numeri del lavoro condotto dalla Procura europea che ha fatto confluire due indagini parallele svolte rispettivamente dagli uomini della Guardia di Finanza di Varese e di Palermo. Il lavoro degli inquirenti ha permesso di scoprire e fermare un'enorme froda al fisco utilizzando decine di società fittizie tenute in vita pochi mesi, giusto il tempo di svolgere le operazioni necessarie per poi chiuderle. L'organizzazione criminale con sede a Roma ogni giorno creava fino a 100 società che servivano anche da lavatrici per i soldi della mafia palermitana ma non solo. Secondo gli inquirenti l'organizzazione avrebbe agevolato economicamente consorterie di stampo mafioso tra cui il clan camorristico di Lauro di Scampia ed il clan camorristico Nuvoletta di Marano di Napoli. In queste frodi Carosello veniva inserita in un'operazione tra imprese di paesi diversi un soggetto economico fittizio, appunto una delle società create ad arte. Questa acquistava la merce del fornitore comunitario senza applicare IVA per poi rivenderla sotto costa ad un'impresa italiana applicando l'IVA ma senza versare l'imposto indicata nella fattura.